Allora, i nostri tre amici docenti, il professor Di Tullio, il professor Manzoli e il professor Bennato. La stagione cinematografica del cinema italiano è alle nostre spalle. I vostri appunti, dopo aver sentito gli appunti di Laura Delicolli. Il professor Manzoli. Il professor Bennato. Sì, diciamo che è stata una stagione cinematografica sicuramente in cui il cinema ha dovuto competere con le piattaforme streaming. Questo ha sicuramente sotto gli occhi di tutti. Ed è stata anche una stagione in cui ovviamente anche il cinema ha prodotto delle pellicole che sicuramente in altri contesti avrebbero raccolto tantissimo pubblico e sarebbero riusciti a scalzare quella forma di pigrizia che ormai ci attanaglia tutti dovuta alle conseguenze dell'aver trasformato la nostra casa in una specie di bossolo. Quindi la pandemia ci ha portati fondamentalmente a essere più sedentari o comunque meno affrontare anche cose che ci piacciono come il cinema uscendo di casa. Per quanto invece riguarda la produzione, quello che si è imposto sicuramente è la capacità di fidelizzazione che hanno avuto le grandi narrazioni. Penso ad Animali Fantastici, penso a tutte le varianti del Marvel Cinematic Universe che comunque dialogano anche con le piattaforme streaming perché ovviamente è un universo coerente che integra la pellicola cinematografica con ciò che si dipana dal punto di vista narrativo anche nelle serialità televisive che avviene su Disney+. Quindi fondamentalmente quello che accade è stato alla ricerca di una costante nuovo modo di costruire immaginaio, di costruire narrazioni cinematografiche potenti cercando di non creare competizione netta tra il cinema e la piattaforma streaming ma cercando un'integrazione offrendo prodotti diversi ma all'interno dello stesso universo narrativo.